Non è possibile lavorare, stiamo lavorando, parliamo, oggi sono tutti così da posto, se vuole fare una manifestazione riservata, mi deve fare una dichiarazione d'amore, no, e allora penso che... Io faccio il mio lavoro, come sempre, io sono una cittadina, poi mi ci impondate, ma no, siamo qua da scontare, siamo anche anch'io, mi sta decisando, siamo a Ficcadini e siamo a Ficcadini e siamo a Ficcadini, grazie d'amore, io ho la curiosità, io ho la curiosità, insomma, spaventarsi di due donne, Vabbè, magari il signore si emoziona, fa il reporter ma si emoziona, spegniamo i telefonini, sì, 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 non è spaventato dalla videocamera? No, no, registra, registra, registra. ma che malattie no non mi puoi parlare ma io non mi puoi parlare ma io sto facendo andare a fare le cose ma io sto facendo andare a lavorare non mi puoi parlare insieme ma io facciamo la nostra vita non mi puoi parlare non mi puoi parlare non mi puoi parlare non mi puoi parlare noi spendiamo per questa guerra in Afghanistan circa 2,5 milioni noi siamo qui a parlare abbiamo parlato di Eva abbiamo parlato di Eva e le domande che mi ha fatto sono soltanto su sui parlamentari ma che domande mi ha fatto? ma che domande mi ha fatto? i due parlamentari una domanda seria una domanda seria una domanda seria io non sto facendo una domanda non voglio rispondere a queste domande no no dobbiamo rispondere solo alle cazzate loro lasciali bene no 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 lasciali bene gosti ma ragazzi posso ti scusare una cosa no no io non so neanche tu che sia scusami perché tutti quanti sembra che ti conoscono io non ti conosco io non so di quali abitante qui siate siate venuti a casa ah ok molto piacere Gabriella Bonilla sono un abitante di un paese vicino a Flambo Grazie a tutti.